Era nel capannone dell'azienda agricola di famiglia dove lavorava in contrada Matteo a Ripalimosani. Stava effettuando interventi sotto la sua macchina, un Audi A4, come aveva spesso fatto anche in passato, manutenzione, riparazione, cambio dell'olio. Il veicolo a quanto pare sollevato con un cric per consentirgli le operazioni è finito addosso a Carlo Sollazzo, 48 anni, che è rimasto schiacciato dalla stessa auto. Una tragedia che si è consumata ieri nel primo pomeriggio aveva detto ai familiari al padre che sarebbe andato nel capannone dove c'erano attrezzi e mezzi, non è passato molto tempo ed è successo il peggio. Accortisi dell'accaduto, gli stessi familiari hanno chiamato i soccorsi. Sul posto 118 i vigili del fuoco per Carlo non c'era già più nulla da fare. Lo strazio dei parenti e degli amici accorsi increduli. Era precisissimo, pignolo, capace, aveva a che fare ogni giorno con mezzi agricoli e non solo è incredibile quanto accaduto, ha detto tra le lacrime uno dei familiari. Il capannone è transennato, l'arrivo dei carabinieri di Campobasso e Ripalimosani per i rilievi, gli accertamenti per sentire parenti, amici, testimonianze. Sul posto anche il medico legale. È arrivato anche il sindaco di Ripalimosani, una morte quella di Carlo Sollazzo che lascia sgomenta una comunità che ne conosceva e apprezzava le qualità umane di gran lavoratore, una comunità e una famiglia. Ora strette al dolore della moglie con la quale viveva a Campobasso Carlo e con lei da quattro anni stava costruendo il suo futuro fatto di sogni e speranze.